La E-Tech elettronica passa di mano. L'azienda nata 28 anni fa che lavora nel campo dello spazio e da lavoro a circa 35 persone viene acquisita, o almeno le quote vengono acquisite, dal gruppo MB Elettronica di Arezzo. Durante il Covid sindacati e lavoratori furono protagonisti di una battaglia per scongiurare 11 licenziamenti. La Fimcisla ha ufficializzato la fine del percorso di acquisizione. L'MB conta più di 500 dipendenti in tutto il gruppo ed è un'azienda in forte espansione. Il sindacato a breve vuole incontrare la nuova proprietà. ritenendo che il segmento spazio sia molto importante per la città. L'E-Tech nell'Aquilano affianca aziende come tale Salenia Space, Leonardo e Telespazio nella Marsica. In questa fase per i lavoratori non cambierà nulla perché la MB ha acquisito tutte le quote societarie dell'E-Tech elettronica, quindi rimarrà ancora E-Tech elettronica come il nome dell'azienda. Certo che le prospettive per i lavoratori cambiano, essendo la MB un gruppo grande a livello italiano con oltre 500 dipendenti e che sta facendo delle acquisizioni di piccole aziende strategiche che lavorano nel settore dello spazio come l'E-Tech elettronica. Questa dimostrazione che l'interesse sullo spazio ce n'è tanto e che le professionalità dei lavoratori sono altamente elevate. La provincia dell'Aquila vede la presenza di aziende importantissime del settore come la Thales, la Telespazio e la Leonardo. A E-Tech elettronica sono 30 anni che lavora nel comparto per Thales Salenia Space, per cui MB anche lavora per Thales Salenia Space. L'investimento che hanno fatto evidentemente è sicuramente volto a una prospettiva di futuro, di investimenti sullo spazio enorme, così come anche a livello governativo e a livello europeo si sta facendo negli ultimi tempi.